A me i turisti non mi piacciono Mamma mamma che dobbiamo fare? Chiudi la volta, stanno arrivando i turisti e qua entrano ovunque E che fanno piovono? Che fanno piovono? E quando rubano i turisti? Certo rubano, sono una cosa incredibile Quelli del Nord sono pericolosi Ma mamma la mafia è qui E tu mi dici che sono pericolosi quelli del Nord Ma la mafia è qui, ma soltanto per... Noi facciamo... Noi abbiamo la nomina E loro fanno i fatti In faccia delle più grandi truffe dove sono? Al Nord Siamo i turisti? Sì siamo i turisti Andiamo da Fortalezza Mamma mamma guarda i turisti Ma dove è? I turisti sono peggio dei cinesi Sono da per tutti Guarda Chiedo Buon nazione Buon mare col petto Posto sorpreso Anzi Ma state da casa Benvenuti Aspettate un cimbo la finita Per buon anno Ah I turisti sono molto simpati Ma questi turisti quando se ne vanno? Tu mi puoi dire che tutto quello che ho bevuto a me I turisti non mi piacciono Mi devi dare delle motivazioni valide per cui non ti piacciono Perché non possono le palle? Oh Lo petto è bello Bello piatto siciliano Oh È bellissimo Che bello Che bello E' in Sicilia Abbiamo scoperto Questa cosa è straordinaria Non siamo più tristi No No Ma per Peter è il mio primo capito Per me è il mio No Mentre caglio La fanno è un amico Un amico Sì, sì, sì. I turisti sono molto simpatici, ma sono buonissimi, i turisti sono molto simpatici. Andiamo, andiamo via con te, cosa vuoi? Alcora ti stando, i turisti! E poi vieni da me e gli dici, ma che li porti via? Ma ancora qui questi turisti, ma perché non li porti via? Scusa Nanni, fai qualcosa, non ne voglio più vedere questo che faccia la turista. Via, via, ho tutto sto sonno, guarda. Va bene, li porto via questi turisti perché così vi libero un po'. Li porto via. Ciao! I turisti sono molto simpatici. Ciao turisti, ciao! Sono molto simpatici. Chi? Silvio. La bella, non capisci. Gli orecchi, dove si funziona? No! Domenico, questi turisti sono molto simpatici. Sì, sono abbastanza simpatici. Chi? Silvio e Isabella. No, devi dire turisti e basta. I turisti sono molto simpatici. Sì. 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 Sì.